Il mondo è pericoloso, il mondo è corrotto, degli altri non mi posso fidare, possono procurarmi solo sofferenza, sono cattivi e non possono capirmi, dalla vita non mi aspetto niente e via dicendo. Se questi pensieri si affacciano spesso nella tua mente, vedrai che l'argomento di oggi può esserti di aiuto. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo, psicologo, psicoterapeuta e life coach. Oggi ti parlerò di come questi ed altri pensieri non siano corretti, anche se la tua identità si struttura su queste idee. Mentre la causa, se vogliamo dire così, di questi pensieri potrebbe essere una certa debolezza mentale. Naturalmente ti aiuterò a comprendere se questo è il tuo caso e poi vedremo insieme come porre rimedio, grazie ai consigli che ti lascerò. Intanto inizierei a comprendere cosa si intende per debolezza mentale, che definirei una caratteristica psicologica caratterizzata da pensieri costruiti a partire da idee e credenze riguardanti il mondo e gli altri, spesso assolute e pervasive. Tali idee, che spesso derivano da esperienze assolutamente negative che hai avuto, poi per indole o per paura vengono generalizzate, fino ad arrivare a percepire il mondo e gli altri come una minaccia. Ovviamente, se diffidiamo dell'altro ritenendo di non poter avere alcuna aspettativa positiva, come conseguenza percepiremo la nostra realtà in maniera molto avvilente e pesante. Dunque, si può dire, in un certo senso, che una persona debole mentalmente può non avere, su malgrado, la possibilità di ottenere il meglio dalla propria vita e dalla realtà che lo circonda, a causa delle sue aspettative costantemente negative. Come dire, in altre parole, che sebbene assetata, questa persona è talmente convinta di non trovare l'acqua nel deserto che non si metterà nemmeno a cercarli in un oasi, confermando così le sue idee iniziali di essere destinata a soffrire la sete. Se hai questi pensieri o idee, purtroppo, che sono sì caratterizzati da scarso o nulla fiducia in generale, sappi che soprattutto questi pensieri dipendono da scarso o nulla fiducia in te stesso e nelle tue capacità. E qui sto parlando anche di autostima e di fiducia nelle tue risorse. Ma la cosa importante è che tutto questo, grazie alle giuste esperienze, può migliorare. Anche se la tua vita è determinata da uno stato di insoddisfazione costante, dovuto alla mancata realizzazione dei tuoi desideri. Ma prima ancora, per evitare questa frustrazione, spesso rinunci ad ascoltare i tuoi bisogni, per non trovarti poi a dover anche solo provare a raggiungere un qualsivoglio obiettivo desiderato, visto che il tuo pensiero di base è quello di non riuscire a realizzarlo. Se tendi a compiacere, farei anche fatica a dire di no. Tenderai a farti condizionare dagli altri o a cercarne sempre la conferma. Sei una persona mite, ma hai la tendenza a dare poco peso a quello che vorresti per te, mentre attribuisci molto valore a quello che dicono e fanno gli altri. Sei anche una persona accomodante, fai il possibile per evitare conflitti e attriti o per non deludere gli altri. Ecco, dovresti diventare consapevole della possibilità che hai di poter diventare più forte mentalmente, avendo più fiducia in te stesso, mettendoti gradualmente alla prova e migliorando così la tua autostima per arrivare ad ottenere il meglio possibile anche per te. Parlando di queste caratteristiche abbiamo visto che sono abbastanza tipiche e se possedute possono definire una mente e un carattere come debole. Per riepilogare le più importanti sono queste. Sei accondiscendente, hai costante bisogno di approvazione. Stai sulla difensiva per timore di quel che può accadere. Menti per paura di non compiacere l'altro. Metti molta energia per dimostrare continuamente il tuo valore. Sei incerto quando devi agire e chiedi sempre il permesso per fare qualsiasi cosa, anche quando non è il caso. Ti scusi in continuazione. Hai un bisogno costante di essere sostenuto nelle tue scelte. Puoi anche essere eccessivamente timido, precludendoti così delle opportunità. Ovviamente la debolezza di cui sto parlando non deve per forza essere estrema, ma ognuno, riflettendoci un attimo, potrà pesare, misurare, diciamo così, questa caratteristica su di sé. Adesso che abbiamo un po' preso le misure, vediamo a questo punto ovviamente cosa puoi fare per diventare più forte mentalmente, così da riuscire a sentirti finalmente sicuro di te e agire nella tua vita con determinazione, portando a termine azioni positive e giuste per il tuo benessere. Ecco i miei consigli. Non fissarti con il passato. Tutti abbiamo avuto delle delusioni, ma ad un certo punto dobbiamo convincerci di non sprecare più le nostre energie in questo. Il passato non può essere cambiato. Puoi invece impegnarti nel presente per renderlo migliore, così da riscrivere il tuo futuro. Non ripetere sempre gli stessi errori, perché se lo fai avrai sempre le stesse conseguenze. Sii più autocritico e accetta che molte cose non è che accadono e basta, ma tu sei responsabile delle tue azioni e delle tue scelte, non altri o il destino. Ovviamente qui non mi sto riferendo ad eventi avversi e negativi indipendenti dalla tua volontà. Non paragonarti agli altri con invidia o gelosia. Semmai, se hanno più successo di te, prendili come esempio, impara da loro, perché infine il vero paragone che devi fare è con te stesso e con i miglioramenti che hai fatto. Accetta di non tenere tutto sotto controllo e metti il tuo impegno nelle azioni necessarie a raggiungere i tuoi obiettivi, controllando i passi che devi compiere tu. Visto che molte cose accadono o non accadono, a prescindere da te, almeno impegnati in quello che può dipendere da te e dal tuo operato. Accetta di doverti assumere qualche rischio, calcolato certo, ma non esistono scelte esenti da questo. Non ti sto suggerendo di buttarti in un'impresa a capofitto senza valutare pro e contro, ma nemmeno di rimanere bloccato dalla tua paura. Non ostacolare i cambiamenti, perché il cambiamento è parte della vita stessa e ogni tanto qualche sfida la dovrai pur accettare. La vita è complessità e nell'immobilità le tue esperienze non avranno più alcun sapore o attrattiva. Smetti di preoccuparti di dover per forza piacere. Se sei sempre accondiscendente, corri il rischio di agire solo a vantaggio degli altri. Impara a dire no quando è necessario e con educazione, perché è solo così. Quando è il caso, potrai affermare te stesso e i tuoi bisogni. Se fallisci, non disperarti e non rinunciare. Anzi, ricordati che ogni fallimento è un'opportunità di crescita e miglioramento. Se ne approfitti però per apprendere cosa è sbagliato e perché. Smetti di lamentarti e dispiacerti per quello che non hai o avresti voluto. Sei qui, sei ancora in gioco, piuttosto cerca di fare il possibile per ottenere il possibile. Lamentarti non cambierà la tua situazione. Le tue azioni, le tue scelte e i tuoi comportamenti sì. Una persona mentalmente forte è una persona equilibrata e sicura di sé. E credimi, non è così dalla nascita, ci è diventata. Quindi non rammaricarti se ancora non lo sei. Accetta le tue debolezze, perché solo accettandole potrai migliorarti. Come sempre, averne consapevolezza è un ottimo punto di partenza. Perché se vuoi diventare mentalmente più forte, ora sai cosa devi fare. Così potrai superare meglio gli ostacoli che troverai lungo il tuo cammino, riuscendo a resistere, adattandoti anche alle situazioni più difficili che non potrai cambiare, se e quando sarà necessario. È vero, a volte serve anche un po' di fortuna, mi dirai. Eh sì, ma ti sembrerà strano. La forza mentale puoi svilupparla proprio superando ostacoli con tenacia, senza arrenderti, un po' come andando in palestra. Più sollevi i pesi e più diventi forte. Sappi però che conta molto il tuo approccio. Vorrei allora che tu iniziassi qualsiasi nuova esperienza, sapendo, sentendo che ce la farai. E' questo il segreto di chi è mentalmente forte, la fiducia in se stesso, che puoi costruire anche tu, grazie alle tue esperienze, ma devi arrivare a crederci veramente, provando e riprovando. Perché nella vita una buona forza mentale è di fondamentale importanza. E' come vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Credimi, fa la differenza. E per chi è già forte, il mio invito è quello di non credere di poter bastare sempre a se stesso. Non è giusto approfittarsi di chi è più debole, di chi accondiscende, di chi non sa ancora dire di no. Perché non solo non è corretto. Ma come potremo stare bene ed essere felici se non lo saremo un po' tutti? Come potremo gioire completamente se chi ci sta a fianco è triste e non realizzato? Dopo questa mia riflessione finale, ti esorto a mettere in pratica tutti i miei consigli. E se questo video ti è stato d'aiuto, iscriviti al mio canale e lasciami un commento se vuoi condividere la tua esperienza con tutti noi. A te che hai deciso di impegnarti per diventare più forte mentalmente, a te che vuoi arrivare finalmente a fidarti di te stesso e delle tue capacità per arrivare a sentire, pensare, agire al massimo delle tue possibilità, auguro di uscire da questa sorta di prigione, quella dell'insicurezza in cui ti ha rinchiuso la tua mente. Hai la tua vita da conquistare, supera le tue paure, anzi superiamole insieme e vai fiducioso verso i cambiamenti positivi che ti attendono. Ciao, a presto, un abbraccio.